Impossibile trovare una camera libera nel weekend di Ferragosto, impresa complicatissima trovare alloggio anche fino al 21 agosto. E' questa la fotografia del mese del turismo nella provincia di Pesaro Urbino scattata da un'analisi nazionale di CNA Turismo e Commercio. Si tratta di una bella boccata d'ossigeno per tutto l'indotto dopo un giugno e un luglio un po' sottotono. Per quel che riguarda i turisti italiani, fra chi ha già soggiornato o soggiornerà breve nella provincia di Pesaro Urbino, si registra un terzo di presenza in più rispetto all'agosto del 2020, periodo in cui furono concentrate tutte le ferie all'uscita della prima ondata di pandemia. Ma il dato forse più importante sono i numeri di flussi di turismo interno che risultano superiori anche all'agosto del 2019 prepandemia. Tanti italiani, ma anche gli stranieri tornano a far capolino. C'è l'effetto Rossini Opera Festival, ma anche l'allentamento di restrizioni attraverso il lasciapassare europeo. La geografia del turismo provinciale a Ferragosto vede sold out tutto il litorale da Gabice a Marotta passando per Pesaro e Fano. Ma riscuota un successo crescente anche Gradara, così come Urbino. Risultano sempre più gradite e attrattive le visite ai piccoli borghi collinari grazie anche all'offerta crescente di possibilità di turismo esperienziale. La formula dell'albergo classico resta la più gettonata, ma è comunque un agosto da pollice in su anche per camping, agriturismi e bed and breakfast.